ciao felice giorno oggi è prevista una lunga lunga giornata di pioggia che ho deciso di dedicare al mio hobby preferito ho creato questi orecchini in stile orientale nei colori blu azzurro argento e grigio antracite sono realizzati con le perline in vetro i cristalli swarovski e le monarchelle sono in argento 925 ti piace o no? io ho anche realizzati nei miei colori preferiti viola e fucsia e chiaramente si possono realizzare in qualsiasi colore se ti colleghi con il mio sito www.triulala.ch potrai vedere il work in progress di questi orecchini ciò che vedrai in pochi minuti in realtà è un processo che dura per diverse ore per questo paio di orecchini ci ho messo più o meno quattro ore tutte le mie creazioni sono ideate e realizzate da me personalmente acquistando un bijou triulala avrai sempre la certezza di avere un pezzo unico e particolare buona domenica sera a presto